Oh, ma cosa c'è là sotto? Diamanti? Sì, sono tutti i miei! No, no, per favore, no! Iniziamo questa vanilla. No! Uccidiamo un pesciolino! Ha fatto! Ma come? Come? Dove sono? No, perché? Signor villager, io la odio! Cosa? No, 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 no! Ma come? No, 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 no! Oh, che bella caverna che ho trovato! Non andare avanti, pericolo di morte! Ma cosa? Ma dai, ma per favore, io ho pure la spada in ferro! Ma quando mai? Cioè, nel senso... Non è che sono così stupido... Oh, ma... No, no, no! Scusa! Scusa! No, 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 no! Avevi ragione! No, 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 no! Non me ne vado! Me ne... Perchè? 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 Perchè?